Conferenza stampa questa mattina presso la sede del Partito Democratico di Taranto. Il commissario del PD Nicola Odati ha fatto il punto sulle ultime novità soffermandosi sul suo attuale incarico. Si sente, si ritiene, amareggiato per le critiche ricevute in questi ultimi giorni? Sì, un po' sì, naturalmente, perché sono del tutto destituite di fondamento e testimoniano anche una scarsa pratica e conoscenza delle norme statutarie e anche della prassi consolidata della vita del nostro partito. Non mi occupo del congresso provinciale, ha detto il commissario. Il mio compito è solo quello di garantirne il regolare svolgimento. Io porterò avanti il partito fino al momento in cui cesserò di esserne commissario. Poi chiarisce la posizione del PD nei confronti del siderurgico. Il PD vuole difendere l'insediamento produttivo ma ad una condizione che sia compatibile con la salute e con l'ambiente e dunque abbiamo scelto con nettezza la strada della decarbonizzazione, della riconversione produttiva e questo non era facile, naturalmente. Noi eravamo il partito dei decreti salvail, da cui siamo venuti a chiedere scusa anche alla città per alcune scelte che abbiamo fatto. Che tipo di coalizione intende costruire o proporre per la candidatura a sindaco di Rinaldo Melucci? Marco Rinaldo si sta facendo un buon lavoro intanto per costruire una dorsale che sia la stessa della coalizione nazionale, quindi un rapporto nuovo e positivo con il Movimento 5 Stelle, con le forze che fanno parte del centro-sinistra e naturalmente con una coalizione che ha una forte valenza politica poi si può anche lavorare ad aggregare forze civiche che si riconoscono nel progetto che noi vogliamo portare avanti. Grazie.